Referendum, guia a suo voto. Manca ad una gira, si addisi in nada in suo calendario con su referendum costituzionali. Bioso e testi in particolari. Tocca da noi dell'uegoso, che non è un referendum abrogativo, ma un referendum confirmativo. A differenza del referendum abrogativo, su referendum costituzionali non teni d'incontro dell'ompia o teni su numeri legali. E stannai che in sattopo che i selettorisi non siano su 50% per lo zono dei schien di deniti diritto, sul risulto del suo referendum ad essi valido a Cittotto. Sa pregunta referendaria che da essi scritta in esi scheda selettorali se custa. A probaisi bosattro su cantunara da salei costituzionali, che vuole da dei disponimenti su popassai su bicameralismo paritario, sa riduzida del suo numero dei parlamentari, sa contenida dei gasto su popassai funzionali di istituzionisi, sa bocata del suo CNEL e sa revisioni del suo titolo GINCO e del suo secondo partito e del suo costituzione. Geronata di Sanregorta Alimentari Oggi è la Geronata Nazionale del Sanregorta Alimentari e uno scanto intre il supermercado promannoso di Carbonia antipicao parte a Savaina. In mezzo due punti il supermercado su Gonad. Sanregorta dei generi alimentari si però risorta ad essi per lo spago abbondante di anno passato. Casso territorio è sentendimata sa crisi, ad affrimao Teresa Bezzo, una dei volontari a sa che assighio i spersoni funti vattu vattu serriata sa donai e attenni carità di nifaina sa meda che concordano in loguo nostro. Sa respusta sopra dei bortasi questi custa borta non faidi. Chi nipote da giudata e donata si impruso bottigelio su popipiuso, lati impruini e gallettina sa scioperendi dunca sa da giudai bruschettotto e spipiuso. Casso dei dipendenti aiasa. Funti lompiosi i stipendi su dei suoi mesi argiolasa, poi i dipendenti si dessai asa, però sa dibattano si vrimada. Unus 300 traballatori si dessu sulcesi, pedinti dambeni che dispaginti tre mesi in attraso, austu capudani e ladamini dessu 2006i, impruso sa mitati dei stre mesi si dei stipendi uvocanto per tocca d'Occano Passau e atro stresi d'Occano. Prano poi straballatori si dessu barco geominerario. Bascio proposta dess'assessora Virginia Muras, aggiunta regionale ad approvare su Prano poi straballatori si dessu barco geominerario storico e ambientale di Sardigna. Su progetta da durare uno scantusanno, sette anni da disponimento, 25 milioni di euro sanno, poi straballatori si occupaosi in Ifainasa dei 70 comuni su Ostoso a Intru dessu barco. Grazie a tutti.